Papà, ma ti ricordi quel campo dove mi portava la mamma da piccola? Lei mi diceva che era caduta una stella, un asteroide. Ma era caduto davvero o era una sua fantasia? Perché hai scelto Lucia per fare questo lavoro, me lo dici? Perché è una disgraziata. È l'unica che può firmarmi con le carte senza creare problemi. Mi dispiace, non ho niente, è che quando lavoro lascio tutto in macchina. Oh! Ma sei pazza? Tu sai chi sono? Sì, sì, dai, ti sposti per favore, che devo andare a casa. Io sono la madre di Dio. Ti sei sbagliata? Dico, magari tu volevi andare nella casa a fianco, no? Sono venuta solo per te. Dio che spiega. Non vuoi che torniamo insieme? Arturo ti ho detto che vedo la Madonna. Ma sei andata da qualcuno, non so, da un esorcista, qualcosa? Tu devi fermarli e dire loro di costruire una chiesa. No! Com'è no? Io sto impazzendo. Fa esplodere tutto, Lucia. Secondo me è una stronzata incredibile. Cos'ha, Lucia? Non ti capita qualcosa. Vede la Madonna. Io in questo quadro non vedo niente di positivo. E la Madonna ha un gran numero di follower. È lei! La Madonna! No, 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 non sono io. Di acqua. Acqua! 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 Che c'è di male a cercare di essere più felice? Niente. Questa sei tu. Vede la Madonna. Eh, Madonna. Bella. Se volevi che tornavo, bastava un WhatsApp. Te l'ho mandato? No, infatti.